Hanno subito per anni minacce e sopraffazioni psicologiche, fisiche, materiali, le persone, sette italiane e una straniera, che hanno deciso di rivolgersi agli agenti del commissariato di Fano, i quali hanno allestito una stanza dedicata per fornire assistenza e raccogliere le segnalazioni delle vittime di questi episodi commessi dai conviventi, compagni ed ex. Un fenomeno al quale la Polizia di Stato pone particolare attenzione in termini di prevenzione e repressione. Di recente è stato attivato il Codice Rosso sotto la titolarità della Procura della Repubblica di Pesaro in otto casi che si sono verificati a Fano. Gli agenti, diretti da Stefano Seretti, hanno proceduto penalmente nei confronti di cinque uomini irresponsabili, in due casi dei reati di maltrattamenti verso familiari e in tre di atti persecutori, oltre a lesioni personali. Inoltre hanno adottato tre provvedimenti amministrativi dell'ammonimento, che consiste in un avviso del questore nei confronti di chi compie atti persecutori di cessare immediatamente i comportamenti molesti, con l'avviso che, in caso contrario, nei suoi confronti si procederà penalmente d'ufficio. Tra i principali motivi alla base delle violenze ai danni di sette donne e un uomo, c'era il rifiuto di accettare l'interruzione del rapporto sentimentale, spesso difficoltoso e caratterizzato da frequenti soprusi. In diversi casi, trattati dai poliziotti, gli stalkers reagivano alla separazione con un ulteriore inasprimento degli atteggiamenti prevaricatori, come continui e opprimenti controlli, anche con appostamenti nei luoghi di lavoro o di frequentazione privata delle vittime. In più, tra le condotte contestate, rientrano le minacce, le moleste telefoniche, percosse e ingiuri, e tanto da provocare gravi stati d'ansia e fondati timori per l'incolumità propria dei figli. Nei casi più gravi, nei confronti di due stranieri, sono state applicate le misure coercitive degli arresti domiciliari e dell'allontanamento dalla casa familiare, con il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai figli minori.